Giovanni Maettini lo aveva detto in tempi non sospetti, i barchi telematici, così come sono adesso, non vanno bene e una volta che il sindaco uscente Mauro Favilla è stato fatto fuori dai giochi per risedersi a Palazzo Ezzetti, il presidente della Commissione Centro Storico di Conf Commercio torna alla carica col più classico dell'Io l'avevo detto. Le posizioni espresse dai due candidati a sindaco in lizza per il ballottaggio lo hanno confermato, sulla gestione dei barchi telematici avevamo ragione noi, questo il commento spicciolo. Il nostro, continua Maettini, non era alarmismo come intendeva farlo passare chi nella vecchia amministrazione si occupava di questo settore. Conf Commercio e Commissione hanno ripetuto per mesi, sin da quando l'attivazione dei barchi apparsa all'orizzonte, i timori legati a un ulteriore impoverimento del centro ed oggi i numeri e la situazione purtroppo sono sotto gli occhi di tutti. La crisi per le attività commerciali si è aggravata e la politica portata avanti dai componenti di giunta incaricati di seguire la questione ZTL ha allontanato i lucchesi dalla città. Conclude Maettini che incassa una prima vittoria. Sapere che sia Fazzi che Tambellini giudicano negativamente la gestione dei barchi fatta sinora ci dà sollievo e speranza. La nostra preoccupazione non era accampata in aria e non lo è tuttora, ragion per cui aspettiamo di cuore che il nuovo sindaco stavolta tenga conto delle esigenze di una categoria che più di altre sta pagando un prezzo altissimo alla recessione economica generale. A questo punto resta da vedere se chi sarà il nuovo sindaco di Lucca rivoluzionerà la zona a trattico limitato.